Mustafà, la tua richiesta per la cittadinanza italiana è stata mandata al Ministero, ci sono novità? Per adesso non ho ricevuto nessuna novità, però mi hanno detto che già al Ministero, e dici che qua hanno dato l'ok, che è tutto a posto, quindi ancora al Ministero dall'interno. Io speriamo che arrivi là più presto, veramente. Quanto tempo è passato? Sono quasi due anni, però mi hanno detto che qua la pratica è stata mandata a novembre 2020, è stata mandata al Ministero, qua hanno dato l'ok tutto a posto e stanno aspettando la risposta di là. Per quanto riguarda la tua crotone, stai bene, tutto a posto, sei tutto in regola? Sì, sto bene, sono in regola, sono da tanti anni che sono qua, sono 32 anni che sono qua, sono cresciuto, sono arrivato, avevo 10 anni, un bambino proprio piccolino, e poi la mia storia ormai lo sanno tutte, capito? Non è che non lo sa nessuno. E ho provato a studiare, aiutare mio padre, poi non ho potuto farlo, di continuare il mio studio, e ho provato ad aiutare mio papà, sono andato sempre dietro a lui, aiutarlo per crescere la famiglia, insomma, per mandare la famiglia avanti. Il tuo sogno è quello di avere la cittadinanza italiana? Il mio sogno è veramente, io l'ho fatto dalla dottoressa Calindro, che l'ho salvato l'altra volta, grazie a Dio che mi trovavo anche qui, quel giorno è stato il destino, e mi sono intervenuto a salvare quella donna, che è stata veramente, è stata una cosa, non ne voglio nemmeno ricordare veramente, è stata gridata brutalmente. Io adesso faccio la mia vita normale, e vado avanti, vediamo se le cose, almeno per la cittadinanza, spero che arriverà più presto, perché quelle, io quando sono arrivato la prima volta mi hanno detto, che puoi chiedere, io ho detto, quella che mi ha mandato Dio non posso chiedere nulla, perché quella l'ho fatta non per interesse, ma per avere qualche cosa, o per ottenere qualche cosa, e l'ho fatto col cuore, ho visto quella donna in pericolo, mi sono intervenuto, non per avere qualche cosa, però loro mi hanno detto che ti aiutiamo per farti avere la cittadinanza, almeno quella, perché la cittadinanza onoraria l'ho avuto, poi ho avuto la beneficenza dalla Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ringrazio Tigori per la massima donna efficienza che ho avuto, anche come titolo come Cavaliere della Repubblica, e io ringrazio a tutti, anche i crotonessi veramente, che mi sono stati vicini questi giorni, questi anni insomma, che sono stati difficili, è un po' di cose che ho perso mio padre due anni fa.